Un florilegio per Maria. Figlia mia, desidero passarti in rassegna le invocazioni litaniche che generalmente si fanno seguire al Rosario. Sono come un completamento dei misteri e mentre si invoca il Dio Uno e Trino per chi abbia pietà di tutti, si enumerano le mie diverse prerogative e mansioni come per avermi mediatrice tra lui e i cristiani. Si chiudono le litanie con l'invocazione a Gesù che veramente, quale agnello immolato, cancelli i peccati del mondo. È una corona di invocazioni molto cara al mio cuore, sia che esse vengano recitate o cantate. Le litanie sembrano un florilegio di cui i miei figli mi adornano mentre mi sottopongono le diverse categorie di anime che si appellano alla mia bontà per avere aiuto. Le buone mamme di un tempo le cantavano accanto alla culla dei loro bambini perché prendessero un sonno sereno con la benedizione di Dio, o mentre lavoravano e accudivano alle faccende domestiche. Il canto delle litanie riempiva di melodia le chiese piccole e grandi e molti si studiavano di dare a esse le più belle modulazioni. Chi le recita o le canta mi fa piacere e io benedico ed aiuto coloro che mi raccomandate. Chi le recita o le canta miまたà scatenata. Grazie.